Siamo con Pia Babnik, sei felice con il primo inizio? Sì, è stato felice di giocare perché il corso è stato molto ben preparato e il vettore è stato fantastico. E sono davvero felice con questo inizio. Cosa pensi di Ismola? È stato molto ben preparato, è un corso davvero bello. Anche se fosse un po' freddo, si prepararono perfettamente, quindi è stato fantastico di giocare. Qual è il migliore squadro nazionale in Sardinia? Sì, proviamo a fare il nostro migliore. Siamo pronti per il morgeno? Sì, proviamo a restare un po' e preparare il migliore. il migliore che posso per il morgeno. Sì, piace l'Italia? E piace l'Italia? E piace l'Italia? Pasta? Pizza? Cosa preferite? Sì, piace l'Italia. Ho spaventato l'Italia prima. Sì, piace l'Italia anche. Ci sono molti piatti che mi piace. Grazie Pia.